Open Source nasce per colmare l'esigenza di uno spazio aggregativo che a Biceglie purtroppo è mancato e nonostante ci siamo noi, continua ancora a mancare. Siamo l'unica realtà che promuove uno spazio associativo e di divulgazione. Perché è importante creare uno spazio associativo e di divulgazione all'interno di una città? È importante per creare una coscienza critica nel cittadino, nel socio. È fondamentale, è la base della cultura. Quali sono le attività che avete svolto in questi quattro anni? Consideriamo che facciamo più di 120 all'anno, per cui che si dividono tra teatro, musica, corsi, di vino, di olio, di birra, yoga, tao yoga. Ce ne abbiamo veramente molte di attività e sono tutte mirate ad aumentare la coscienza del singolo socio. Quali sono le difficoltà che avete incontrato in questi quattro anni? Ovviamente economiche, perché avere uno spazio come il nostro, che è una sede molto grande, comporta un costo e se considerate che noi siamo affiliati al circuito ACI, per cui abbiamo dei prezzi che sono sicuramente popolari, per cui sopperire economicamente alle esigenze è il nostro primo e vero grande problema. Sono stati quattro anni veramente esaltanti, un'esperienza sicuramente guida non soltanto per il territorio di Bari e Bat, a cui appartiene, ma per tutta la regione e vorrei dire per tutto il Sud Italia. L'Arci Open Source ha colto in pieno quello che è la missione dell'Arci, essere non soltanto soggetto politico, ma anche una infrastruttura politica, un soggetto che possa in qualche maniera anche supplire in questi tempi difficili a quelle che sono le carenze del pubblico, creando occasioni di cultura, creando occasioni anche di welfare sociale e realizzando tutto quello che serve in questo tempo così complesso per fare società. La filosofia dell'Arci è innanzitutto cercare di mettere insieme le persone. L'aggregazione è il nostro primo punto. Questa aggregazione avviene attraverso la cultura, attraverso l'incontro, attraverso la proposta, attraverso l'impulso. Quell'impulso che si sa fare anche in alcuni momenti in struttura. È un po' il caso dell'Open Source, che riesce a coniugare la quantità e la qualità, l'impulso vitale della propria iniziativa, però anche la capacità di strutturarsi. È uno dei circoli a cui a livello regionale guardiamo con più attenzione e che prendiamo come paradigma di buone pratiche.